Perfetto, annuncio in via ufficiale che la registrazione ha avuto inizio e ci addentriamo sul tema di giornata. Il tema di giornata sarà un tema né tecnico né metodologico, sarà un tema di analisi. E parliamo del modello di prestazione. Cerchiamo di capire quali sono gli estremi e soprattutto cerchiamo di capire come realizzarne uno e in particolare come fruirne in maniera efficiente per sostenere al meglio il nostro lavoro e avere comunque di fatto un certo tipo di traccia da poter fruire. Io procedo con la condivisione del mio schermo. Per favore mi date solo riscontro sul fatto che vediate le slide in questo momento? Sì, proprio. Grazie, perfetto. Allora, modello di prestazione. Partiamo da una semplice questione. Vorrei capire da voi come lo definireste. Che cos'è il modello di prestazione o modello di performance o modello del campione? Diciamo che sono tutti sinonimi dello stesso progetto. Che cos'è secondo voi? Se ne avete sentito parlare? Che cos'è nella vostra testa? Mettiamola così. Vorrei capire qual è il punto di partenza delle vostre competenze. In chat, via microfono, come vi pare? Qualcuno che si esponga, si butta, si butti e ci dica che cos'è secondo lui il modello di performance, modello di prestazione. Perché per realizzarne uno sarebbe meglio conoscere che cos'è perché potrebbe essere importante, perché potrebbe essere utile. Dai, qualcuno? Qualcuno? Qualcuno che scriva qualcosa in chat o che si esponga. Tanto siamo tutti dietro un'icona con un nome, non c'è assolutamente neanche la faccia da metterci. Dai ragazzi, personalità. Che cos'è il modello di prestazione secondo voi? Ne avete mai sentito parlare? Mai sentito parlare? Nessuno? Per favore, mi dite se non ne avete mai sentito parlare prima d'ora? Voglio capire a questo punto. Ragazzi, ci siamo oppure dormiamo già alle 10.05? Sentito parlare poco. Un po' di attività. E per favore, accendiamo i neuroni, iniziamo ad essere un po' presenti. Mai sentito? Penso sia tutto quello che caratterizza uno sport il modello di prestazione, tutti i movimenti, le skills, tutto quello che riguarda il movimento della prestazione di quello sport. Può essere una definizione, diciamo, un po' approssimativa, raffazzonata, però diciamo che l'idea si avvicina un po' a quella, esatto. Vedete fin da subito che O non l'ho mai sentito parlare, o ho un'idea vaga di che cosa sia. E questo è una cosa che ci deve far riflettere. Perché è una cosa importante. È una cosa importante perché come definizione proprio, diciamo, da basic basic, proprio da, se vogliamo, Wikipedia, che cos'è un modello di performance, è semplicemente un modello che comprende tutti i processi mediante i quali vengono esaminati i risultati in un dato settore. Qui non parliamo neanche di prestazione sportiva. Parliamo di generale. Diciamo che è un qualcosa a cui tendere, è un qualcosa a cui devo, in realtà, cercare di avvicinarmi per far sì che la mia squadra abbia, la mia squadra o i miei atleti singoli, abbiano certi risultati che mi auspico di poter ottenere. Ora, da questo punto di vista, anche attraverso la definizione che ha proposto via microfono la vostra collega, può essere una dimensione abbastanza complessa. Quindi, la sommatoria delle varie skills, la sommatoria delle abilità richieste, la sommatoria dei movimenti tipici di quello sport, quali sono le componenti che lo caratterizzano e via dicendo. Per poter realizzare questo tipo di analisi, perché vi ricordo che questa è una situazione di analisi, dobbiamo necessariamente cercare di semplificare. Dobbiamo cercare di caratterizzare, incasellare all'interno di un certo tipo di schema, un discorso che possa far sì che io abbia più o meno in testa un certo tipo di proceduralità per far calzare questa analisi in maniera sistematica riguardante uno sport di interesse. Ovviamente noi, in questo frangente specifico, ci occupiamo della pallavolo, perché il modulo è questo, il vostro modulo accademico, ma in realtà quello che stiamo per andare a dire caratterizza l'idea generale di qualsiasi attività motoria. Quindi, che cos'è di fatto? Deve essere la traccia. E la traccia che noi poi dobbiamo essere in grado di perseguire in maniera più aderente possibile, su cui poi noi andiamo ad applicare le competenze, le metodologie che conosciamo, che possediamo, che dominiamo come tecnici per raggiungere gli obiettivi che ci siamo in teoria prefissati. Quindi, quando vi dico che è un processo di analisi e non un processo metodologico, significa che io vado a indagare quali sono le esigenze di quel dato sport per poi fruirne e poter di fatto andarle a implementare, aumentare nel loro livello di performance, per far sì che la squadra, che il singolo, che l'atleta, migliori. E come vi dicevo, è un modello complicato. Quindi abbiamo un'unica via per poter riuscire. E l'unica via percorribile è quella di semplificarlo il più possibile. Cercare di renderlo più caratteristico nelle sue componenti possibili e poterli incasellare all'interno di macro aree di interesse che possono poi essere indagate singolarmente e, poi vedremo, nelle interazioni che hanno tra loro. Quindi, se parliamo di un modello biologico sportivo, dobbiamo parlare di un modello tricompartimentale. Semplicemente abbiamo tre grandi scatole, tre grandi cappelli sotto i quali infiliamo le varie skills che andremo a capire, andremo a vedere deviso guardando le prestazioni di un dato sport e capire quali sono l'azione di interesse e dove andarle incasellare. E possiamo dividere sotto queste tre grosse scatole la scatola neuromuscolare o meccanica, la scatola cardiovascolare o metabolica e poi abbiamo una scatola funzionale cognitivo e che possiamo definire coordinativa. Se noi riportassimo questa classificazione su un'automobile avremmo che la parte meccanica, la parte, diciamo, che appunto è quella che aderisce nel paragone corpo-macchina sarebbe il telaio. Tutto quello che fa parte dell'involucro, tutto quello che il, diciamo, rappresenta la forma, lo stato che si dispone nello spazio dell'automobile stessa e ovviamente tutto quello che influenza quella parte lì. Se parliamo della parte cardiovascolare andiamo ad indagare e quindi all'interno del nostro paragone automobilistico la parte di ripristino energetico. Che cos'è che manda avanti a spasso sto telaio per la strada? Il motore. Il paragone è lo stesso. La parte energetica del corpo umano sono tutte le componenti che sostengono poi la parte del telaio, i muscoli, le ossa e i tendini, per dire. Quindi andremo poi a indagarli bene nello specifico, ma l'idea è il telaio e la parte meccanica, i muscoli, la struttura, come lo mando in giro, con le componenti che fanno affluire energia a questo oggetto che di per sé sarebbe inerme. E quindi siamo di fronte alla parte cardiovascolare metabolica che andrà a far dare la benzina per far sì che la macchina si muova. Il motore. Ma se io sia un telaio sia un motore e poi non ho qualcosa che correvi, che nella macchina potrebbero essere le centraline, ma anche semplicemente le parti, diciamo, di elettronica o semplicemente il pilota. Se non ho una parte funzionale cognitiva, coordinativa, appunto, che coordina, il sistema telaio e motore, diventa inefficiente. Quindi noi abbiamo queste tre grosse scatole che concorrono a far sì che ci sia movimento. Andremo a fare un'analisi su quelle che sono le componenti per capire dove puoi andare ad incasellare i vari pezzi del puzzle all'interno di questo modello tricompartimentale. E quindi nel dettaglio possiamo dire come già un po' abbiamo accennato che nelle componenti neuromuscolari ci sono i muscoli, le articolazioni, i tendini e i tessuti. Tutto quello che fa parte della scatola. Tutto quello che viene chiamato in causa durante il movimento stesso. Se lo immaginiamo su una situazione appunto del modello pallabolistico possiamo dire che è uno sport di salto. Quindi c'è una interazione ovviamente del treno inferiore. Quindi nel mio modello di performance riguardante le caratteristiche neuromuscolari avremmo degli accenti su tutto il treno inferiore. Perché? Perché ho bisogno di spostarmi ne ho bisogno per spostarmi all'interno del campo e ne ho bisogno per saltare. Caviglie, ginocchia, anche, ma altresì muscolarmente il quadricipite, il banalmente, proprio un elenco banale dei pezzi che chiamo in causa quando sto facendo la mia performance. Ma poi ho bisogno anche delle braccia perché a pallavolo si gioca con le braccia. Quindi spalla, gomito, avambraccio, polsi e via dicendo. Ogni sport ha le proprie peculiarità. Questa, seppur banale, seppur banale discriminante, ci inizia ad incasellare le prime caratteristiche del modello di quel tale sport. Quindi, non faccio un calderone unico, ma inizio a sezionare i vari pezzi e li vado a incasellare all'interno di quello che è il mio territorio di indagine. In questo caso, quello neuromuscolare. Ci siamo detti poi che sotto il profilo metabolico e cardiovascolare ricasca tutto quello che dà energia al mio telaio. Quindi, sangue, polmoni, ma in particolare sistemi di ripristino energetico e reazioni biochimiche. cioè, è ovvio che per muovere un corpo sappiamo che i sistemi energetici lavorano praticamente sempre tutti in contemporanea. Quindi, sotto il profilo dell'alimentazione energetica del mio telaio sappiamo che sia il sistema aerobico viene chiamato in causa, sia il sistema anaerobico lattacito viene chiamato in causa, e sia il sistema anaerobico lattacito viene chiamato in causa, tutto contemporaneamente. Però, in funzione dell'intensità del movimento ci sarà un processo elettivo. Qual è quel processo elettivo che caratterizza il mio sport? E come faccio a dirlo? Lo dico guardando cosa succede. Se parliamo dello sport della pallavolo cosa succede? ci sono degli scambi brevi con dei recuperi relativamente lunghi. All'interno di questi scambi brevi il corpo deve muoversi in maniera esplosiva, aggressiva. Quindi, il sistema di riferimento probabilmente sarà un sistema anaerobico lattacito. Quindi, sappiamo che sotto il punto di vista metabolico il modello specifico della pallavolo è più semplice. Semplice inteso ed interesse molto dettagliato di quel tipo di ripristino energetico in maniera elettiva. Non sempre così. se prendiamo altri sport in considerazione avremo delle esigenze diverse. Se prendiamo in considerazione che ne so il calcio il rugby abbiamo altri tipi di caratterizzazioni in funzione di che cosa? del tempo di esposizione al lavoro quindi il tempo in cui il telaio è in opera fisicamente rispetto al tempo di recupero. In funzione di questo rapporto andrò ad avere un sistema di ripristino energetico elettivo che ci favorisce o ci penalizza in funzione di quello che è il modello di prestazione tipico dello sport che stiamo indagando. quindi telaio muscoli che cosa fa il corpo all'interno metabolico cardiovascolare come fruisco energia per muovere in maniera efficiente a quello che è lo scopo specifico di tale sport il mio corpo. E poi ci siamo già detti questa cosa abbiamo bisogno di un pilota per la nostra macchina abbiamo bisogno che qualcosa venga di fatto coordinato non basta che ci sia energia e la possibilità diciamo dello specifico segmento muscolare di essere pronto a muoversi c'è bisogno che il sistema nervoso centrale il sistema nervoso periferico intervengano per far sì che ci sia un movimento di tipo efficiente e in questo grande calderone entrano sia delle strutture passive ad esempio le sinapsi ad esempio i recettori ad esempio le reazioni deputate alle contrazioni quali possono essere gli assoni sia delle capacità che vengono implementate cioè sulle strutture quindi su quelle che sono le nostre capacità di imparare cose dobbiamo inserire alcune abilità alcune skills quindi ci sono delle capacità coordinative che saranno elettive di uno sport piuttosto che di un altro di un modello di prestazione piuttosto che di un altro e queste capacità legate a queste strutture fanno sì che noi mettiamo insieme una parte funzionale l'ho descritta con il termine allenamento funzionale ma potevo anche descriverla in realtà con il termine forza funzionale che ci dia un riscontro in termini che vengono definiti forze speciali e non specifiche tutto questo per poi andare a caratterizzare quello che è lo sport che stiamo analizzando quindi se parliamo dello sport della pallavolo l'abbiamo caratterizzato come nelle nostre anche lezioni precedenti come uno sport di rimbalzo quindi dove una delle capacità coordinative elettive e la discriminazione cinestesica cioè la capacità del sistema di applicare una forza a un corpo per fargli eseguire un compito la giusta forza per far fare la cosa giusta la traiettoria giusta al mio pallone questa cosa viene discriminata a livello neurale che andrà distalmente a chiamare in causa la parte muscolare la parte meccanica che verrà alimentata dalla parte metabolica questo è il principio su cui si modella appunto un'analisi di una performance che cosa facciamo che cosa fa la struttura per eseguire quel talcomit quindi appunto nel nostro caso una delle capacità può essere quella può essere la discriminazione occhio umano può essere la capacità di orientamento spaziale all'interno del campo perché divide uno spazio con altri compagni quelle sono le caratteristiche cognitive coordinative elettive di tal modello di performance se prendiamo in analisi altri altri sport singoli o di anche di squadra le capacità cambiano perché le richieste cambiano ci saranno degli sport facciamo degli esempi anche di sport singoli se parliamo di che ne so ginnastica artistica e pensiamo a a un lavoro alla trave probabilmente una parte elettiva sarà l'equilibrio se parliamo di non lo so di di altri sport che possono essere in spazi più ampi quindi che possono essere ad esempio il calcio il rugby la capacità di orientamento spaziale diventa determinante la capacità di è pur vero che alcune sono correlate e sono simili ma hanno un'esigenza ancora più spiccata quindi capacità di orientamento capacità di anticipazione anticipazione motoria pensiamo alla scherma è ancora una situazione ancora più elettiva essere in grado di reagire al movimento del nostro avversario è ovvio che poi quasi tutti gli sport abbiano in particolare gli sport di situazione abbiano delle componenti chiamate in causa però ci sono delle componenti coordinative che sono elettive è lo stesso discorso che sottende all'idea sia dell'apparato neurale cioè dell'apparato meccanico sia dell'apparato metabolico è vero che nella questione metabolica tutti i sistemi energetico vengono chiamati in causa però ce n'è uno che lavora più degli altri è vero che se muovo il corpo il corpo cioè se salto è ovvio che il mio salto coinvolge sia il treno inferiore sia il treno superiore sia il centro sia il capo però la propulsione arriva in maniera dominante dagli arti inferiori quindi in questa nostra diciamo analisi dobbiamo tenere in considerazione questi aspetti quindi capire quali sono le caratteristiche specifiche di un tale sport ma in particolare capire quali sono quelle elettive quelle dominanti quelle nelle quali se io sono più bravo ho più probabilità di vincere e questa è una situazione determinante per poi far quella quell'operazione che è propria di un bravo tecnico che è quella di scegliere le priorità e quindi io devo essere in grado di analizzare i sistemi incasellarli sotto questi tre grandi cappelli e capire quali sono quelli di maggior interesse capire quelli che sono più centrali ai fini di quella performance perché se le capisco le andrò ad esaltare e nel momento in cui lo esalto è più probabile che io mi avvicini a un incremento della prestazione fino qua ci siamo? tutto chiaro? ci sono delle domande? bene allora procediamo io ho una domanda cioè la forza speciale non ho capito in che senso l'abbiamo considerata in questo ambito se può fare un esempio sì ok la forza speciale facciamo così tiella lì tiella lì un attimo tiella appesa lì più tardi nel corso della dell'analisi ti cerco di richiamarla se me lo non ti è chiaro più avanti mi rifai la domanda va bene Marco? va bene la lasciamo un attimino lì appesa tiella lì ne parliamo più avanti perché la cosa più importante è capire la differenza tra forza speciale e forza specifica però adesso ci arriviamo allora a questo punto abbiamo queste tre grosse scatole professore sì quella specifica sarebbe quella funzionale no no è proprio lì il punto cioè il quella funzionale è quella speciale ah ok quella speciale è la forza funzionale quella specifica è è la prestazione la forza specifica è la performance ma adesso ti dico più tardi ti faccio un esempio per cercare di fugare questo questo problema adesso andiamo per step lo step successivo da capire è che in certi frangenti non solo è difficile capire dove posizionare alcune abilità ma dobbiamo proprio scendere nel dettaglio e capire un aspetto fondamentale mettiamola così anzi facciamo così se io vi dicessi che in uno sport è importante l'elasticità la flessibilità voi in quale scatola lo mettereste quella neurale quindi quella neuromuscolare quella metabolica o quella coordinativa scriviamocelo in chat mettiamo oppure a microfono in quale scatola lo metteremmo neuromuscolare neuromuscolare sto leggendo alcuni risultati ovviamente neuromuscolare neuromuscolare tutti quanti tutti quanti stiamo andando a parare su il neuromuscolare principalmente però possiamo dire che quando ci parlano di fasi sensibili dell'apprendimento giovanile viene incasellata all'interno anche del progetto coordinativo che ci dicono o la fai adesso o non la fai più è vero che succede questa cosa vi è già sentito vi è già capitato di sentirla ecco esatto c'è già qualcuno che inizia a entrare nello schema Sergio dice giustamente io direi un po' tutte poi in particolare quella neuromuscolare è questo il principio con cui bisogna procedere nell'analisi il principio è l'interazione delle varie noi siamo su un sistema ce lo siamo detti per partire siamo su un sistema complicato quindi abbiamo tanti aspetti che concorrono su un unico punto perché? perché se vogliamo possiamo dire sotto il profilo neuromuscolare è giusto dirlo perché io allungo che cosa? la struttura il muscolo però che cosa è che fa allungare il muscolo? che cosa è che rilascia tensione? me lo scrivete qualcuno? che cosa è che fa rilasciare i muscoli quando io faccio banalmente definito lo stretching? che cos'è dopo qualche secondo che permette quali sono le reazioni? sì ma ok entriamo nel dettaglio qual è l'apparato? cioè sì ok con direzione intramuscolare intramuscolare poi ci sarebbe da aprire dei grandi casi però che cos'è che accendo che cosa c'è distalmente nel che viene sito all'interno delle articolazioni in particolari dei tendini dei legamenti che ci dà riscontro sulla tensione muscolare ci fa reagire cos'è che c'è lì? fusi neuromuscolari oppure fusi neuromuscolari registra gli organi tendini del golge esatto possiamo dire che questa roba qui è una parte che comunque ricade all'interno anche della parte di recezione e come dire della centralina perché senza questi io non riesco a capire qual è il grado tensivo del muscolo e questo è il grado di ragionamento che dobbiamo iniziare ad avere e questo è il punto poi è ovvio che devo scegliere la priorità e la priorità sarà meccanica però non posso dimenticarmi che c'è una struttura al di sopra che lo influenza altresì è vero che anche in maniera più come dire diciamo decisamente in terzo piano però esiste anche una componente di tipo metabolico che va a intervenire su quel tipo di aspetto o perlomeno mi dà un outcome mi dà un risultato lo stretching non è gratis succede qualche cosa all'interno della struttura altro paio di maniche quello però l'idea è ricordiamoci sempre che seppur le tre categorie devono essere divise perché noi siamo su una situazione complicata da dover analizzare che dobbiamo per forza semplificare perché se no facciamo soltanto un'insalata ed è difficile poi raccapizzarsi ed è difficile poi scegliere quelle che sono le priorità dobbiamo essere altresì coscienti che le tre situazioni si intersecano e si influenzano tra di loro questo fa sì che noi nella nostra analisi complessiva sappiamo non puoi decidere qual è la prima cosa che devo fare questo significa allenare ragazzi è logico che ci sono tanti aspetti che vanno a essere implementati e dovrebbero essere implementati in particolare in uno sport open skills in uno sport esperienziale però la cosa che fa la differenza tra l'allenatore bravo e l'allenatore inesperto è che l'allenatore bravo allena una cosa alla volta per bene e come fa? così analizza fa le sue analisi in funzione dell'analisi dello sport specifico cosciente del fatto che siamo su un sistema complesso cosciente che sul fatto che ci sono delle interazioni va a puntare il dito su quella cosa che è più importante in quel determinato frangente e poi agisce questo è la cosa più importante da capire quando parliamo di modello di performance modello del campione modello di prestazione questa è la cosa più importante avere chiaro che cosa serve serve sia ad analizzare ma in particolare a scegliere la priorità questo è una di quelle cose molto importanti se vogliamo imparare ad allenare però poi ci sono altre cose le variabili sono sempre di più sempre in aumento e quale potrebbe essere un altro aspetto che noi dobbiamo per forza poi piano piano tenere in considerazione fino adesso cosa abbiamo fatto abbiamo fatto analisi di un modello modello inteso non è che abbiamo pensato a una persona specifica che gioca a pallavolo abbiamo pensato alla pallavolo in genere abbiamo pensato a un nella nostra testa un gesto della pallavolo e in quel gesto che cosa quali sono le implicazioni quali sono quegli aspetti che vengono chiamati in causa da lì li abbiamo classificati però questa è una disunzione totalmente astratta poi c'è un nuovo livello di analisi il nuovo livello di analisi è chi interpreta realmente nella mia palestra nel mio campo da gioco nel mio luogo di allenamento nel mio campo tali gesti quali sono le caratteristiche dei singoli atleti che sono chiamati in causa nel mio gruppo quindi nome cognome Pippo Pluto Giovanni Francesco Pietro Federica Sara questi sono e ci sono le loro di caratteristiche perché perché quello è un modello quello è che cosa succede ma il modello è influenzato da chi lo interpreta perché perché ogni interprete ha delle caratteristiche specifiche nel nostro caso specifico ci sono già delle differenze di genere età antropometrie e ruoli gli esempi potremmo fare un elenco molto più più dilungarci molto più in profondità però già questi ci danno delle ipotesi quindi facciamo un esempio il genere maschio o femmina cambia l'interpretazione dello sport è uguale se gioca pallavolo un uomo o gioca pallavolo una donna e dipende o meglio no perché perché già per esempio la composizione ormonale di un uomo è differente da quella di una donna normalmente possiamo affermare che un uomo ha una una densità di ormoni androgeni dieci volte in rapporto uno a dieci quindi dieci volte superiore di concentrazione rispetto a quello di una donna ha più testosterone ha più ormoni androgeni e questa cosa perché può essere di interesse perché se andiamo a lavorare su un discorso neuromuscolare quindi su un lavoro dove i muscoli sono chiamati in causa e questa cosa l'abbiamo già purata sull'analisi che i muscoli vengono chiamati in causa quella è una differenza l'uomo a base dieci la donna a base uno da quel punto di vista lì muscolare è pur vero che andrà a competere contro altre donne altre ragazze però io non posso far finta che quella cosa non esista cambia cambia la forza di impatto del pallone cambiano le quote di salto cambia la capacità del sistema di attutire gli impatti questa cosa è una di quegli aspetti che io devo tenere in considerazione se voglio fare bene il mio lavoro di allenatore cambia in funzione dell'età perché perché se sono una un'atleta maschio o femmine che sia giovane e formato ho delle esigenze se invece sono un atleta signores ho altre esigenze e su questo ci siamo già dilungati lungamente nel nostro percorso su quelle che sono delle esigenze specifiche all'interno delle varie fasce di età però queste cose qui influenzano il mio modello di allenamento influenzano il mio intervento devono influenzarlo e poi ci sono le antropometrie la mia squadra è una squadra lunga e una squadra corta se gioco a pallavolo e ho una squadra di lunghi ho una caratteristica sarò facilitato in certi frangenti soprattutto perché se andiamo a poter dire abbastanza con certezza che più colpisco in alto il pallone più posso essere bravo a attaccarlo quindi a mettere in difficoltà i miei avversari e più questo è un dato però cosa succede se la mia squadra non ha quella caratteristica la posso allenare nella stessa maniera come se fossero dei lunghi e no no se sono bravo no se sono capace di fare analisi perché perché questa cosa qui da una parte ti dà un qualcosa in più e dall'altra ti può anche togliere qualcosa perché perché è più probabile che se sono alto sarò meno rapido e altresì è vero che se sono più piccolino sarò più rapido nei movimenti però sarò penalizzato nelle quote di SAT è per questo ci sono anche dei ruoli ogni ruolo ha la propria caratteristica ora queste sono delle semplici variabili semplici variabili è uno simolo però sono variabili che io devo tenere in considerazione se voglio andare a allenare in maniera consapevole quello che è il mio gruppo facciamo un altro esempio anche al di fuori del modulo strettamente legato alla pallavolo se parliamo di gruppi cioè se parliamo di ruoli e pensiamo al calcio nel calcio è vero che è uno sport di corsa ma è uno sport di corsa per dieci l'undicesimo è il portiere e ha un modello di prestazione tutto suo andrà a essere indagato in maniera differenziale nella pallavolo è uno sport di salto l'abbiamo già definito largamente come tale però poi c'è il libero è il libero è un modello tutto suo dove le antropometrie elettive cambiano dove le caratteristiche cambiano quindi è ovvio che io devo avere l'analisi di partenza che parte appunto nella mia testa su un modello astratto ma poi devo andare qui e ci devo andare perché questi sono quelli che io alleno io non alleno un'idea io alleno ragazzi ragazze persone e in questo livello quindi dei giocatori degli interpreti io devo essere bravo a conoscere analizzare quelle che sono le differenze per poterci intervenire come? adesso ci ragioniamo però nella mia analisi devo sapere queste cose è fondamentale perché se no non ho fatto i compiti a casa se no pretendo di andare al mare e non ho la mia non ho il mio navigatore satellitare non ho il mio google maps cioè sto andando a caso devo sapere chi sono i miei interpreti e si tratta di fare un'operazione di profilazione quindi capire quali sono i requisiti anatomici ce ne siamo già detti fisiologici quindi cosa si fa? si va a incasellare semplicemente siamo sempre lì semplicemente in linea diciamo di principio mentale andiamo a fare di fatto l'analisi neurale metabolica e coordinativa di quelli che sono i miei interpreti per capire quali sono le caratteristiche loro non del mio ipotetico modello di giocatore di pallavolo ma del mio reale atleta quello che è in palestra con me e ci sono tante cose che possono influenzare ci sono delle cose che sono innate cioè quindi anatomia e fisiologia sono dei fenotipi del che sono di fatto genotipi scusatemi del dell'interdata però ci sono anche delle situazioni di tipo ambientale inteso come abbiamo delle interferenze sotto il punto di vista del dell'ambiente magari più in altri sport outdoor che possono essere per esempio il campo qual è il campo in cui noi andiamo a lavorare in realtà questo avviene anche nell'indoor perché i fondi fanno la differenza però sono magari delle variazioni macroscopiche la componente ambientale di sicuro cambia in funzione del periodo dell'anno come reagisce il mio soggetto a le variazioni ha delle caratteristiche però ci sono delle variabili in corso e poi ci sono ancora dei fattori di tipo personale che lo caratterizzano la famiglia la famiglia ha un'incidenza perché può essere una famiglia molto presente addirittura magari può essere pressante oppure può essere assente e questo cosa fa? fa sì che le caratteristiche psicologiche del ragazzo o della ragazza siano diverse come mangia? mangia bene? mangia male? come riposa? insomma possiamo andare ad indagare a livello molto 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 profondo oppure stare più a livelli superficiali per capire quanto in profondità adesso ne parliamo in una seconda istanza ma la cosa importante da capire è che ogni modello poi è interpretato da dei soggetti e sono delle variabili aggiuntive sono persone sono ragazzi sono bambini non sono idee e i loro le loro caratteristiche influenzano la riuscita del modello che abbiamo ipotizzato preventivamente è logico che io avrò una linea di tendenza inteso è ovvio che non è che mi cambia se l'ordine di priorità se parliamo della pallavolo sul fatto di un apparato neuromuscolare del treno inferiore è molto sollecitato non è che cambia se ho un interprete di dieci anni o di vent'anni rimane sempre una situazione da attenzionare su cui lavorare in maniera importante massiva però cambia la mia interpretazione cambia cambia il mio approccio cambia il mio ideale di lavoro all'interno di quella data specifica condizione bisogna essere bravi mentalità aperta gestire tante situazioni all'interno del nostro cervello pianificare per poter far sì che la mia scelta prioritaria sia fatta in maniera consapevole matchando quindi intersecando quelle che sono le esigenze del modello e gli interpreti allora lì sì che vado a centrare bene il problema allora lì sì che vado a veramente costruire un modello ripetibile nel tempo non interpretabile non soggettivo ma assolutamente scientifico nell'approccio e nei metodi e nei mezzi applicati un'altra cosa che mi è venuta in mente a riguardo di questa caratteristica psicologica capite che il mio grado di approccio quindi il mio grado di anche comunicativo se vogliamo all'interno di un gruppo cambia già soltanto dal se un gruppo maschile è un gruppo femminile esistono diciamo caratteri più estroversi dove magari al contrario dovrò addirittura cercare di confinarli contenerli nella loro esuberanza oppure ci sono delle persone che vanno spinte a provare a far di più spinte anche a essere più come dire spavalde nell'interpretazione del lavoro dell'allenamento non posso farvi tutta l'erba in fascia non posso perché perché anche quell'aspetto lì io posso fare tutta l'analisi perfetta avere tutto benissimo in testa ma poi non riesco a farmi capire oppure non riesco a tenere in considerazione che ci sono delle persone che hanno caratteri diversi e io con la mia col mio carattere magari vado a inibire la natura dell'interprete e il castello di carte crolla non riesco a far fare quello che avevo ipotizzato a chi poi deve mettere in pratica il mio lavoro che sono gli interpreti che sono i nostri atleti essere bravi a tenere in considerazione questi parametri diventa determinante per la buona riuscita del tuo grado di allenamento anche quello che magari nella nostra testa è l'ultimo degli aspetti da tenere in considerazione poi ti fa crollare tutto il sistema tu puoi aver fatto un'analisi perfetta avere tutti i dati avere tutto ben chiaro in testa qual è la tua priorità quando fare cosa saperla allenare nel migliore dei modi essere ricco di risorse che adesso capiremo che è una parte altresì determinante per decidere il grado di profondità di intervento e poi non riesco a comunicare con quelle che sono i miei soldati i miei ragazzi e allora tutto questo non viene messo in opera perché l'obiettivo finale è trasformare loro quindi possiamo parlare di un sistema che lavora in via possiamo chiamarla concentrica una sorta di matrioska dove un involucro più grande tiene dentro qualcosina di più piccolo e possiamo andare sempre più in una condizione di dettaglio addentrandoci sempre più in profondità sulle caratteristiche degli singoli partendo da un'analisi generale grande grossa di quello che è il modello che da cui siamo partiti dal modello delle caratteristiche dello sport ideale che le nostre diciamo bambole matrioska più piccole rappresentano caratteristiche sempre più di dettaglio sempre più di di soggettività dei nostri interpreti e questa cosa è una roba che può praticamente possiamo quasi dire non voglio dire andare all'infinito ma andare nel forte grado di dettaglio certo che non sempre è possibile o anzi scusatemi è quasi mai impossibile avere un altissimo grado di dettaglio quindi avere un grandissimo grado di personalizzazione dell'allenamento se non ho risorse perché perché l'allenamento è assoggettato a un modello di lavoro correlato a quanto è grande la mia sfera di intervento quali sono le possibilità effettive di mio intervento all'interno di quello che è il mio modello il mio sistema concentrico quanto posso influire su questo sistema a quale grado di profondità abbiamo questo principio da dover sostenere e per capirlo e qui mi rimando anche alla alla domanda che mi è stata posta poc'anzi per quanto riguarda la forza speciale per spiegarvelo vi faccio un esempio per capire quali sono i nostri interventi e in funzione del nostro grado di risorse a che punto noi ci possiamo andare a inserire per capire noi dobbiamo quando parliamo di livello specifico questo allora prima cosa questo è un processo ideale tanto più lo prendiamo dalla via generale tanto più riusciamo ad andare in profondità tanto più ci spostiamo verso destra verso l'allenamento di tipo specifico tanto più lo andremo a influenzare a livello superficiale andiamo sul nostro esempio partiamo dal livello più superficiale perché è più facile da comprendere se io alleno una squadra di pallavolo e a disposizione come strumenti quindi come risorse ho soltanto un pallone un campo e dodici giocatori con due ore alla settimana quattro ore alla settimana due allenamenti alla settimana quindi diciamo poco tempo io come grado di intervento posso semplicemente far lavorare in maniera specifica e con maniera specifica si intende lavorare sulla prestazione di gara nel nostro caso giocare a pallavolo parzialmente con situazioni di punteggio specifico tutto quello che volete però giocare a pallavolo se hai poco tempo fai giocare se hai poco tempo sei solo un pallone fai giocare se sei da solo in palestra e non puoi differenziare fai giocare lavori unicamente su questo aspetto più superficiale poniamo il caso che invece di avere soltanto due allenamenti a settimana da due ore ne ho quattro di allenamenti a settimana e invece di avere un unico pallone ne ho dodici un pallone a testa allora potrò iniziare ad andare intervenire su quello che è la sfera di tipo speciale speciale significa tutte quelle componenti coordinative che mi aiutano poi a giocare tutte quelle capacità abilità che mi permettono di essere poi più bravo se le riporto all'interno del progetto di gara quindi nel mio caso specifico sarebbero i fondamentali l'allenamento dei fondamentali a secco quindi ho un pallone a testa e per un allenamento facciamo solo il bagger per un allenamento facciamo solo il palleggio per un allenamento facciamo soltanto l'attacco quando per due volte alla settimana mi focalizzo su questo tipo di progetto cioè cerco di migliorare la mia qualità di sensibilità di rimbalzo e poi quando me ne vado in campo dovrei cercare di mediare e far sì che ci sia un passaggio un transfert di questo aspetto un transfert che mi faccia diventare non solo più bravo a gestire il pallone singolarmente ma portarmelo poi nel mio nella mia situazione di gara sono passato da un'idea specifica quindi gioco e basta perché non posso fare di più a una parte di tipo speciale cerco di implementare quelle che sono le condizioni coordinative del mio gruppo li alleno ad avere dei fondamentali migliori perché? perché ho più risorse più risorse inteso ho più palloni e ho più tempo aumentiamo ulteriormente le risorse ho più risorse dicendo perché ho ho tre collaboratori insieme a me e allora a quel punto lì cosa posso fare a livello speciale? posso individualizzare per ruoli posso individualizzare per ruoli e i miei tre collaboratori si andranno a andranno a monitorare i ruoli diversi e nel ruolo del palleggetore ci sarà una massiva richiesta di lavoro sul palleggio mentre nel ruolo dello schiacciatore ricevitore ci sarà un intervento più importante per quanto riguarda l'attacco nel ruolo del libero un intervento più differenziale sul discorso del bugger quindi aumento il grado di risorse posso aumentare il grado di dettaglio questa cosa ovviamente posso portarla per alto per avanti finché voglio fino ad avere magari anche una persona per ogni soggetto e dire ok vado non solo ad allenare quella che è la tua caratteristica di ruolo non solo quella che è la tua caratteristica di fondamentale lettivo ma la correlo anche a quelli che sono le tue caratteristiche antropometriche le tue caratteristiche non lo so di deficit cioè se sei meno bravo a fare quella cosa lì mentre gli altri stanno facendo una cosa specifica per tutti gli altri io mi focalizzo su quella che è il tuo grado di di problema per cercare di migliorarlo ma la personalizzazione è figlia delle risorse tanto più sono esposto e tanto più ho una condizione diciamo importante sotto il profilo della possibilità tanto più posso andare in via approfondita e ponendo in cui il caso in cui ho ancora più tempo ho una palestra pesi ho un preparatore atletico oppure io ho delle competenze non lo so dipende da tanti aspetti anche che possono essere variabili però come linea di principio possiamo dire che se salto più in alto e tiro più forte il pallone ho più possibilità di vincere probabilmente sì e allora cosa succede nel mio tempo aggiuntivo andrò a fare qualcosa di dedicato per incrementare le caratteristiche che io penso siano di interesse del mio modello di prestazione quindi gioco a pallavolo se salto di più se salto di più è più probabile che vinca? sì e allora nelle parti generali potrò lavorare all'incremento delle quote di salto perché? perché se salto più in alto quando andrò sulla carta speciale quindi sulla parte più coordinativa colpirò il pallone più in alto e allora colpendo il pallone più in alto ho più possibilità di avere un transfer positivo quando me ne vado in campo quindi sulla parte specifica questo però è determinante se e solo se capisco bene a che grado di profondità io posso intervenire perché se no se sbaglio il mio grado di intervento faccio delle cose che sono infunzionari non è assolutamente detto che se sono un campione di fondamentali poi sono bravissimo e vinco le partite così non è detto che se io salto la rete tra virgolette con a piedi pari poi vinco le partite perché se non so trattare il pallone non è detto che io vinca le partite certo può essere un fattore di interesse però è un fattore di interesse in funzione di una catena una concatenazione un'interazione di dati un'interazione di analisi questo deve essere il punto di partenza dove sulle nostre competenze andremo poi a intervenire quindi anche per rientrare poi sulla domanda che mi è stata posta da Marco precedentemente quando parliamo di speciale oppure forza funzionale è l'allenamento del sistema neurale è l'allenamento del sistema qualitativo non quantitativo qualitativo cioè come la mia centralina gestisce meglio i movimenti in uno sport open skill ha una dominanza la capacità di gestire le situazioni a livello coordinativo rispetto a una capacità generale quantitativa salto di più e tiro più forte se salto di più e tiro più forte ma io non sono capace a trattare il pallone perdo nell'ordine di apparizione di un open skills dopo la parte specifica che è quella proprio sul campo la porzione di gara l'allenamento allo specifico della prestazione c'è la parte speciale la parte coordinativa la parte dell'allenamento funzionale la parte che va a implementare la centralina il sistema nervoso centrale questo è l'allenamento speciale Marco ho risposto alla tua domanda? Sì grazie professore è chiaro perfetto molto bene e questo è quanto il principio di lavoro è analisi e scelta di priorità in funzione di queste variabili scelgo il punto dove posso iniziare a intervenire da tutto questo possiamo evincere che lo stesso sport può proporre modelli differenti lo stesso sport propone modelli differenti perché ognuno dei modelli è costruito in funzione alla soggettività dei nostri gruppi delle nostre squadre poi è logico che si rifà a dei modelli sovrastanti a delle strutture che coordinano il tutto in maniera diciamo generale però lo sport ogni squadra ha il suo modello perché ogni squadra ha la sua variabile e diventa molto pericoloso pericoloso in termini di risultati costruire modelli con interpreti non adeguati questa è una cosa che succede abbastanza spesso magari anche voi adesso io non so quali siano i sistemi di aggiornamento dei vari tecnici nelle varie federazioni ma io vi posso dire quello che succede nel campo della pallavolo nel campo della pallavolo succede che se c'è un corso d'aggiornamento tenuto dal commissario tecnico della nazionale femminile la domenica il lunedì sera se tu vai in una palestra vedi gli stessi esercizi capite che è una cosa del tutto sfasata a riguardo di tutto quello che abbiamo detto fino ad ora perché perché il commissario tecnico della nazionale ha degli interpreti che sono necessariamente differenti probabilmente differenti da quelli che sono i nostri ha delle risorse in termini di palloni assistenti tempo a disposizione che sono profondamente diverse dalle nostre e una visione totalmente ottusa della dimensione di copia e incolla di quello che è il processo perché se l'ha fatto il commissario tecnico della nazionale allora va bene è come dire che se Pirlo Conte che ne so Pioli fanno un esercizio al Milan Inter Juve te te ne vai dai tuoi giovanissimi dai tuoi pulcini della tua scuola calcio che fanno due ore di allenamento ogni quattro giorni e gli proponi la stessa cosa e va bene perché l'ha fatto un tecnico di alto livello non funziona così si parla di sport si parla di calcio ma le esigenze del modello di performance sono totalmente diverse perché? perché cambiano risorse e cambiano interpreti quindi noi per quanto riguarda questo tipo di sistema dobbiamo essere in grado di partire da uno sport specifico ecco inteso quando parlo di specifico è quello di cui abbiamo descritto poc'anzi quindi partendo da un intervento superficiale per poi andare verso un personalizzato questo perché perché se io lavoro su una parte specifica centro la priorità passo dal mio livello di priorità mi sposto più verso il personalizzato in funzione di quanto posso essere capace bravo supportato nel poterlo raggiungere e questo è quello di cui abbiamo parlato largamente fino adesso su questa slide il grado di determinazione cioè di determinazione intendo dire di quanto noi possiamo influire sul livello di allenamento del nostro del nostro gruppo è influenzato dalle risorse che abbiamo a disposizione e con risorse penso di aver già esplicitato abbastanza in maniera approfondita che cosa intendo vi è chiaro questo punto? questo è molto importante quindi la capacità di intervenire perfetto la capacità di intervenire deve essere pianificata in funzione dell'analisi è importantissimo perché se no rischiamo di fare cose giuste ma al momento sbagliato possiamo allenare senz'altro no? la quota di salto per dire no? nello sport della pallavolo però se non ho questo perché poi mi scarseggiano le risorse cioè non ho il tempo e allora ho del tutto sbagliato il mio processo mentale di proposta di allenamento posso far correre ore i miei calciatori i miei giovani calciatori i miei giovani giocatori di basket quello che però ho poi il tempo di lavorare a livello prima specifico quindi la parte di gara simulazione di gara e poi speciale perché non c'è scritto da nessuna parte che se i fondamentali sono forti e te vinci non c'è scritto da nessuna parte che se tu salti più in alto hai più probabilità di vincere la partita di pallavolo se corri più a lungo hai la probabilità di vincere la partita di calcio questo è importante importante per essere dei tecnici consapevoli e avere soprattutto un modello solido e ripetibile fondamentale perché poi non basta vincere una volta bisogna vincere nel tempo per essere considerati dei buoni allenatori quindi per adesso abbiamo lavorato su quelle che sono l'analisi e su quelli che sono i nostri gradi di intervento un'analisi prima idealistica poi un'analisi di tipo personalizzato quindi profilazione di quelli che sono i soggetti degli interpreti dobbiamo monitorare cioè dobbiamo capire come facciamo a capire scusatemi gioco di parole se sto facendo un buon lavoro nel mio piano di allenamento oppure no perché l'obiettivo poi è sempre quello di portare il mio gruppo a incrementare il proprio livello e per questo serve un monitoraggio un monitoraggio che possibilmente dovrebbe essere e necessariamente complesso perché perché lo capite benissimo che siamo su un sistema abbastanza diciamo intersecato dove le variabili in gioco sono molte però più possibile non deve essere complicato cioè deve essere più fruibile più facilmente diciamo messo in opera dall'operatore per far sì che ci sia un monitoraggio più attendibile possibile deve essere calzante sulla disciplina e deve avere dei parametri che siano oggettivi e condivisi cioè tutti quanti quando andiamo a monitorare i risultati di un dato frangente della prestazione dobbiamo oggettivare quello che è il risultato in maniera che sia io che il mio collaboratore che chi che sia quando vede possa dire ok la squadra l'atleta è migliorato oppure no standardizzato ripetibile normalizzato normalizzato e pertinente cosa significa in una parola oggettivare il monitoraggio quando parliamo di monitoraggio è ovvio che andiamo è ovvio non lo so diciamo che stiamo entrando nella dimensione del test di verifica quindi il monitoraggio non sono nient'altro che i test di verifica di verifica che devono essere caratterizzanti su quelli che sono la disciplina e aggiungere anche il la diciamo la priorità che avevo selezionato in precedenza e siano calzanti sull'analisi di quella priorità facciamo degli esempi abbiamo costruito il modello dello sport della pallavola ci siamo detti che è un modello di salto dove il modello metabolico si rifà a una condizione generalmente elettiva energetica di anaerobico a lattacido come sistema energetico di ripristino prevalente quindi il mio gruppo di lavoro lavora sull'analobico a lattacido benissimo se io utilizzo il test di Cooper o il test di Conconi per analizzare quella disciplina capite che sto facendo un analisi di un test che assolutamente ha una sua attendibilità e può migliorare o peggiorare quindi lo alleno e poi lo ripropongo e magari la qualità resistente della mia squadra è migliorata però non è calzante non c'entra niente tu sei diventato resistente alla forza resistente alla forza aerobica però di fatto poi la disciplina ti chiede un'altra cosa quando scegliamo un test di monitoraggio dovrebbe essere il più calzante possibile a quello che è l'obiettivo della prestazione è ovvio che per carità può essere una avere anche un certo tipo di interesse vedere che cosa succede però capite che nell'ordine di priorità quella dovrebbe essere l'ultimissima cosa forse sarebbe più interessante capire su un grado di tipo di specializzazione meccanica capire quanto salto in più capire qual è il mio grado di rapidità di spostamento per dirne due invece che andare a lavorare su una condizione generale molto lontana dal modello di performance così come se andassimo su un altro sport che ne so se parliamo di ginnastica artistica non lo so poco utile lavorare su una condizione di monitoraggio aerobico oppure di spostamento chi se ne frega se sai fare il t-drill veloce e poi devi essere appeso alla sbarra tra virgolette magari migliori ma non è quello che ti fa calzare rispetto alla performance magari è più calzante un modello estremamente meccanico dove devi resistere appeso alla sbarra più resisti più forte sei vuol dire che stai migliorando questo significa calzante e vi garantisco che io almeno parlo per la mia esperienza nel mio sport questa cosa non sempre è scontata ricordiamoci sempre che le risposte del corpo sono altamente specializzate altamente specializzate noi ci aspettiamo che tra virgolette se corro in salita poi quando corro in piano corro più veloce non è così per fare un esempio banale dopo che ho selezionato il mio grado di monitoraggio quindi capire qual è il test che voglio fare ho già scelto la priorità la priorità l'ho scelta nell'analisi ne abbiamo parlato largamente dopo che ho scelto come voglio testare la mia priorità devo capire quali sono i tempi fisiologici adeguati cioè se parliamo di abbiamo deciso che per monitorare un grado di performance generale della pallavolo le quote di salto possono essere interessanti benissimo quanto tempo si migliora in quanto tempo si migliora la quota di salto di certo non in una settimana quindi se io determino faccio un test preliminare e poi ripropongo lo stesso test il lunedì successivo faccio il test di salto il contro movement jump il lunedì alleno tutta la settimana pleometria forza esplosiva reattiva e il lunedì dopo mi aspetto già che ci siano delle variazioni se rifaccio un test sono ottuso perché perché non sono non ho tenuto in considerazione dei tempi fisiologici ci vuole più tempo quanto dipende da che cosa stai indagando se stai facendo un lavoro specifico sul sistema nervoso centrale ipotizziamo voglio fare un lavoro di precisione di equilibrio la capacità di riprogrammazione è molto più elevata se tu fai un lavoro tutta la settimana se il lunedì incominci a fare un test su una tavoletta proprio eccettiva lo ripeti il venerdì dopo che ti sei allenato con costanza e sei già migliorato perché? perché il tempo fisiologico di adattamento è diverso in funzione di quella che è la componente che stai a indagare scegliere il momento della verifica in funzione sì di quella che è la verifica del parametro di interesse ma nei tempi fisiologici che il corpo ha per avere prima un aggiustamento in acuto e poi un adattamento in cronico è determinante aggiustamento adattamento ne abbiamo già parlato durante il corso di quelli che sono stati gli altri nostri appuntamenti non credo ci sia bisogno di risottolinearne le differenze la verifica dovrebbe essere disposta dopo la prestazione di gara non prima molte volte si fa prima questo è un errore diciamo metodologico perché perché nel momento in cui tu fai un test in ogni caso metti stress al tuo atleta seppur minimo metti stress al tuo atleta ed è più utile che lui mantenga le sue capacità diciamo la sua riserva energetica disponibile per quella che è la competizione e in realtà se tu disputi la gara la domenica il martedì non è che sei fuori sei fuori condizione il martedì avrai la possibilità o il lunedì o il martedì successivo nel test avrai un'altissima attendibilità di quali sono di quali erano le condizioni dell'interprete in gara non è che ti cambia e soprattutto non è che ti cambia saperlo il sabato pomeriggio per la domenica di gara perché tanto non puoi più intervenire quel che è fatto è fatto allora a quel punto che facciamo facciamo passare la gara e subito in via successiva inseriamo il nostro test di verifica ovviamente gli ultimi due punti sono quelli focali per per fare le nostre scelte del monitoraggio e per capire a che punto stiamo quindi prevenzione di overtraining di infortuni quindi non solo implementazione della performance ma anche prevenzione di quelli che potrebbero essere dei sovraccarichi e ovviamente quello di cui abbiamo già iniziato fin dall'inizio si chiama modello del campione un motivo ci sarà ed è di fatto l'idea di preparare l'atleta a vincere ok quindi parlando del monitoraggio dobbiamo essere in grado di pianificare quella che è la nostra idea essere in grado di rilevare i dati di interesse quindi il test che facciamo rileviamo un qualcosa di oggettivo un numero una distanza un tempo un numero di ripetizioni una centimetria insomma dobbiamo avere un numero un numero che sia di interesse per la priorità che abbiamo selezionato quindi abbiamo scelto bene come monitorare abbiamo scelto bene abbiamo scelto bene la capacità da indagare abbiamo scelto bene il test con cui monitorarla dobbiamo rilevarlo e avere un'oggettività di quello che è il nostro il nostro dato che ci dia un parametro obiettivo di quello che è il livello allo stato dell'arte attuale dell'indagine e questa è poi la parte più difficile dobbiamo interpolare sapete che cosa significa interpolare un dato qualcuno lo sa qualcuno in chat o a microfono sa che cosa significa interpolazione dei dati no qualcuno nessuno lo sa silenzio è d'oro interpolazione dei dati questa è l'operazione per cui un tecnico è bravo o no l'interpolazione dei dati significa capire perché il numero che ho rilevato è stato atteso o non atteso inteso come faccio un test il test mi dà un riscontro un riscontro in termini test di salto esempio test di salto faccio il mio test il test uno quindi il primo test mi dà 10 cm di quota di salto alleno per incrementare la quota di salto e alla rilevazione succede che il mio giocatore fa invece che 10 cm della verifica cioè della 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 prima prova ne fa solo più 8 perdi 2 cm di quota che cosa è successo? interpolare i dati significa andare a capire nel processo quindi dal punto di partenza dal dato di partenza al dato di arrivo e qual è stata l'influenza nel nostro caso specifico dell'allenamento e capire qual è stato l'errore o alla stessa maniera la parte esaltante la prestazione che ci ha fatto sì che ci sia stato un risultato atteso quindi il protocollo mi ha premiato sì no ma non ci possiamo fermare lì e sì perché no perché tanto più sono bravo a intrecciare il dato di monitoraggio di partenza con la verifica finale con le mie competenze con quelle che sono la capacità di analisi di che cosa è successo in mezzo con tutte quelle che sono le variabili in gioco tanto più la mia interpolazione sarà positiva e potrò uno cambiarla nel caso non sia stata positiva come risultati o due riproporla se è stata una buona un buon periodo di allenamento che ha portato a un buon risultato interpolare significa prendere i risultati e correlarli al piano dell'allenamento e capire dove sono stati punti di forza e punti deboli per lenire i punti deboli ed esaltare i punti di forza questa analisi questo cross questo match diventa importante per far sì che ci sia la possibilità di ripetere ripetere o di cambiare se è andato bene ripetere se è andato male cambiare da questa situazione succede che il processo ha un nuovo rinizio selezionerò nuovamente le priorità cos'è che non è andato in qualcosa che dovrò andarlo a calzare per poi andare ad una nuova programmazione e ripartire con il processo di rilevazione questo è un sistema chiuso un sistema chiuso che va avanti potenzialmente all'infinito per far sì che ci sia sempre un'ottimizzazione di quello che è il risultato però tutto parte dall'indagine preliminare tutto parte da quella che è l'analisi dello sport da quella che è l'analisi degli interpreti e da quelle che sono le risorse di protezione del soggetto c'è una domanda c'è qualcuno ho sentito un microfono aperto niente è andato quindi per ritornare a tirare le fila sulla parte del monitoraggio scelta la priorità scelgo un un qualcosa che sia un test che sia funzionale l'indagine lo propongo in una via preliminare con rispettando quelle che possono essere le tempistiche del calendario rilevo i dati faccio analisi del processo che mi ha portato a tal risultato da il nuovo risultato vado a selezionare una nuova priorità e riparto con il processo quindi programmando una nuova fase di allenamento stesso parametro altro parametro dipenderà se la situazione mi ha soddisfatto e se mi sto avvicinando o allontanando da quello che è il modello che devo perseguire ci sono domande a riguardo di questa parte di monitoraggio e verifica dei risultati di come si fa almeno in linea teorica poi ripeto ci sono tante tante situazioni che dipendono anche da appunto da cosa abbiamo a disposizione per lavorare puoi fare puoi fare un test di salto sulle pedane di forza oppure puoi utilizzare il vertec oppure puoi utilizzare una telecamera ad alta velocità oppure puoi usare il cessetto contro il muro o il salto in lungo da fermo questo dipende dalle risorse che uno ha tanto più sono approfondite di alto livello tanto più avrò facilità di analisi questo è ovvio però ciò non toglie l'esigenza di misurare quelli che sono i risultati perché se no non capiremo mai se abbiamo bontà del nostro lavoro oppure no non mi pare che ci siano ulteriori domande quindi andrei o se ci sono ponetele pure se no andiamo a tirare le fila di questa nostra presentazione allora punto 1 è una di quelle cose a cui ci tengo molto grado di controllo è determinato dal contesto non sentitevi frustrati se non avete la possibilità di andare in gran profondità su quelle che sono le i parametri che avete rilogato in particolare su quelli che sono le soggettività dei vostri interni questo questo purtroppo o comunque volenti o nolenti è una delle capacità di un tecnico è una delle cose con cui un tecnico fronteggia quotidianamente il suo lavoro e vi dico anche un'altra un'altra verità a qualsiasi livello le risorse non sono mai pienamente soddisfacenti possono essere di più alto livello ma mai mai riescono a essere perfettamente confacenti a quello che è l'esigenza o il grado di approfondimento che il tecnico vorrebbe poter conseguire quindi facciamo di necessità di tu e interveniamo in funzione di quello che è il nostro la nostra sfera di influenza in maniera consapevole e capaci di poter far migliorare tra virgolette chiunque almeno a livello di tipo specifico poi piano piano ci si può allargare partiamo da una competenza di specificità alta in funzione di quello che lo sport interessa e poi piano piano ci allarghiamo questa è un'altra cosa a cui tengo molto l'allenatore è una cosa e l'istruttore è un'altra sono due cose diverse noi possiamo essere dei bravissimi istruttori bravissimi istruttori bravissimi a costruire fondamentali negli atleti che siamo che abbiamo di fatto in responsabilità ma non essere dei buoni allenatori l'allenatore gestisce variabili è in grado di sapere a che punto sta della scala e ha un'alta capacità di analisi del problema sa dov'è il suo punto di influenza sa gestire al meglio le proprie competenze per esaltare quelli che sono i risultati generali non è soltanto una condizione di indottrinare un soggetto a fare un gesto quella cosa lì non basta per quelle cose lì ci sono gli istruttori che è lodevolissimo il lavoro che fanno ed è altamente ed è altrettanto difficile per farlo per bene bisogna avere una grandissima qualità però non c'è scritto da nessuna parte che un buon fondamentale ti faccia vincere o perdere una partita per quello ci sono gli allenatori per quello dobbiamo essere capaci di costruire un modello di analisi che ci faccia avvicinare a un incremento oggettivo oggettivo e non soggettivo delle prestazioni dei singoli dall'inizio alla fine devo poter dire questo questa squadra questo interprete faceva una cosa adesso la fa meglio o la fa diversa o la fa in più questa è la capacità di un allenatore ricordarci che le risorse influenzano il nostro grado di intervento e che dobbiamo essere capaci di selezionare le priorità generale speciale e specifico restano alcuni dati che abbiamo già ampiamente discusso in precedenza e determinano quanto in profondità noi possiamo andare quanto in profondità noi abbiamo l'opportunità di scegliere priorità da poter monitorare e inseguire ultimo punto poco ma fatto bene far aumentare di performance un soggetto o una squadra in un aspetto è una situazione molto delicata e complicata la cosa che ci tengo a dirvi è che tutto quello che stiamo che abbiamo discusso e largamente analizzato in questo retta o retta e mezza di chiacchierata è ovvio che è complesso e se vogliamo dispendioso in termini di energie e di lavoro ma il punto è cerco di capire dove voglio andare a lavorare e provo a martellare lì sulla priorità che ho selezionato e ci devo rimanere sopra per un pochino non è che posso ogni giorno rimbalzare da una priorità a un'altra in funzione a quelle che sono le mie diciamo le influenze di giornata per far migliorare una squadra o un atleta su un unico aspetto ci vuole impegno dedizione e assolutamente metodo reiterare insistere questo è il punto che ci può far migliorare o meno un atleta quindi è per quello che dobbiamo essere bravi a selezionare da che cosa vogliamo partire e poi insistere insistere significa poco ma fatto per bene nel tempo questo è il punto e per alleggerirvi vi dico anche un'altra cosa non vi ammattite non impazzite sul dover selezionare la priorità perfetta giusta corretta si può anche sbagliare in termini scusatemi in termini di metodi la priorità bisogna selezionare la giusta e corretta in termini però di metodi e come allenarla non importa se sbaglio non importa se funziona o non funziona iniziamo a fare una cosa e portarla avanti poi se avrò sbagliato e i test mi dicono che non ho ottenuto quello che desideravo pazienza cambio lo fanno in tutti i campi lo fanno i medici non possiamo farlo noi che siamo degli allenatori però l'importante è avere metodo perché se io continuo sempre a stornare a cambiare idea a cambiare metodo a cambiare priorità e allora adattamenti non ne ho mai nessuno e soprattutto non cresco mai non capisco mai se mi sono avvicinato o mi sono allontanato dall'obiettivo finale prendiamo la priorità cerchiamo di conseguirla non funziona il mio primo metodo ne propongo un altro ne propongo un altro però quello è un processo che a tendere porta a un livello di crescita tendere porta a un livello di incremento di prestazione una cosa scelta per bene in maniera accurata con un'analisi approfondita fatta per bene nel tempo senza andare a rimpallare a destra a sinistra seguendo un pochino quello che tira il fumo del cosa faccio oggi no per un certo periodo di tempo io provo a inseguire quello che è il mio obiettivo di interesse scegliamolo bene scegliamolo con costanza e proviamo a inseguire una cosa alla volta questo è il punto del poco ma fatto bene bene ci siamo detti un po' di cosa così al brucio avete delle domande dei dubbi delle perplessità da voler subito presentarmi oppure è più o meno almeno in linea teorica tutto chiaro tutto tranquillo vi invito a guardare perfetto vi invito a riguardare con pazienza questa questa lezione di farla sedimentare di approfondire di cercare di capire veramente qual è il sistema che sottende a a queste scelte perché è una cosa molto importante è molto importante avere un metodo nella selezione delle priorità e poi un metodo di verifica e conseguimento degli obiettivi è centrale per far sì che diventiate dei buoni tecnici e dei buoni allenatori qualsiasi sport di interesse sia quello che vi riguardi ok è indipendente dallo sport il processo deve essere gestito in maniera molto molto metodica e molto molto precisa per capire se stai facendo una scelta giusta consapevole e soprattutto se ti stai avvicinando a quello che è un incremento oppure no questo è il dato fondamentale quindi mi invito a riguardarla con pazienza e approfondire un po' il vostro grado di competenza delle cose dette riportarvi in maniera schematica in testa quello che è il processo se poi ci sono altre domande altre cose punti non chiari a riguardo di questa tematica ovviamente rimango a disposizione sia frontalmente nelle prossime settimane sia tramite e-mail o qualsivoglia metodo per tenerci in contatto se non c'è altro di interesse vi congederei vi auguro una buona giornata un buon lavoro un buono studio e data loro anche buon appetito ci aggiorniamo alla prossima giornata stessa giornata stessa ora buona giornata ciao arrivederci arrivederci buona giornata ciao 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 ciao